Sono state le bellezze storico-monumentali di Monza, le protagoniste della seconda giornata dell'Assemblea Generale Annuale dell'Associazione Europea delle Residenze Reali, svolta quest'anno tra Milano e il capoluogo Brianzolo. Dopo la sessione di lavoro svolta Palazzo Reale mercoledì, i rappresentanti di oltre 30 istituzioni provenienti da 14 paesi europei hanno vissuto un'intensa giornata di immersione tra i luoghi artistici di Monza. Dopo l'arrivo in stazione con un treno storico degli inizi 900, la visita è passata dalla Sala Ferroviaria Reale al Duomo, dalla Cappella Espiatoria al Parco di Monza e i Giardini Reali, chiudendo con la Villa Reale e il Teatrino. Con questa occasione abbiamo messo a confronto le nostre esperienze con le esperienze di ben 32 altre sedi di Regge Reali. Questo significa che impariamo da loro, che loro imparano da noi e che specialmente la reggia di Monza finalmente viene più conosciuta e rientra in un circolo, in una rete di residenze reali europee che si aiutano a vicenda. Occasione che ha segnato anche l'inaugurazione della mostra La Reggia Viaggiante, un excursus fotografico dedicato al sontuoso treno che un tempo scortava i reali italiani e i loro illustri ospiti. Una giornata di incontro e scambi di esperienze tra i direttori di alcune delle Regge e beni architettonici più belli al mondo. Il programma è funzionato perché le cose che abbiamo detto sono interessanti, perché hanno conosciuto una nuova realtà che è la reggia. Su tutte le problematiche che riguardano il parco, la villa, eccetera, si sono resi disponibili a trovare soluzioni, a raccontarci cosa hanno fatto loro e questo significa già un passo in avanti enorme. Oggi l'ultima tappa dell'Assemblea annuale o la visita a Villa Carlotta a Tremezzina, in provincia di Como.